Ben ritrovati in questo spazio dedicato ad Alice. Alice è l'acronimo dell'associazione che si occupa di ictus celebrale e soprattutto della sua prevenzione. Siamo in compagnia del dottor Linoli che oltre ad essere il direttore del reparto di neurologia dell'ospedale San Donato di Arezzo è anche un fondatore della sezione a retina di Alice. Facciamo un po' di introduzione cercando di far capire a chi ci ascolterà sia dagli schermi televisivi che ormai dai social network che sono diventati il nostro forse mezzo di comunicazione per eccellenza. Quanto è importante essere attenti a quei due così dice la vostra campagna cioè cuore e cervello. Esattamente è vero nel 2012 fui socio fondatore di una sezione provinciale a retina di Alice tuttora operativa. Alice ovviamente è una federazione di associazioni di volontariato dedicate proprio alla lotta all'ictus cerebrale. Una federazione operativa in 19 regioni italiane impegnata spesso da sola ma anche in collaborazione con il servizio sanitario nazionale o con quello regionale nella organizzazione, nella promozione di campagne rivolte alla popolazione volte a promuovere appunto la conoscenza dei fattori di rischio vascolare che intervengono appunto nel promuovere l'insorgenza di un ictus e nel precoce riconoscimento dei sintomi di esordio. Brevemente per i nostri ascoltatori il termine ictus, termine latino che ha poi trovato la traduzione nella lingua inglese in quello di stroke che significa appunto anch'esso colpo, indica ogni condizione caratterizzata dall'esordio improvviso di un deficit neurologico espressivo di una sofferenza focale cioè circoscritta o diffusa dell'encefalo che si protrae per oltre 24 ore e che per la quale non sono identificabili altre possibili cause se non una vasculopatia cerebrale. Si tratta sicuramente di una condizione estremamente eterogenea ma possiamo individuare due principali categorie clinico-patologiche di ictus. La condizione più frequente è appunto l'ictus ischemico legato appunto alla occlusione di una o più arterie cerebrali, l'altra l'ictus o stroke emorragico è una condizione al contrario legata alla che deriva dalla rottura di vasi sanguigni cerebrali. Quindi due condizioni molto diverse sebbene diciamo con sovrapponibili dal punto di vista clinico che necessitano peraltro di una precoce diagnosi, di una tempestiva diagnosi differenziale. Questo perché ictus ischemico ed emorragico prevedono appunto percorsi diagnostici e terapeutici ben diversi. Ecco immagino che nella tempestività di intervento così anche il riconoscimento insomma dei sintomi poi magari parliamo anche dei fattori di rischio quindi entriamo nel tema della prevenzione però forse l'informazione così quasi anche più immediata rispetto a chi ci ascolta è è successo questo evento il paziente si è comportato così probabilmente si tratta di un ictus ce la può un po' inquadrare assolutamente è fondamentale riconoscere i sintomi di esordio tanto da poter porre il sospetto di un evento ictale ovviamente le espressioni cliniche di esordio di un ictus sono estremamente variabili da caso a caso ma un elemento caratterizzante è l'esordio improvviso talora brutale di un deficit neurologico si può trattare ad esempio di una asimmetria della rima orale si può trattare della improvvisa insorgenza di un deficit di forza di uno o di ambedue gli arti di un lato di un improvviso deficit delle sensibilità di un improvviso disturbo visivo fino alla perdita improvvisa della vista in uno o in ambedue gli occhi uno una diplopia cioè una visione doppia di un immagine unica si può trattare talvolta di una cefalea di un mal di testa improvviso di tale intensità che il paziente non aveva mai provato in passato ovviamente questi sintomi ad esordio neurologici ad esordio improvviso configurano il devono suscitare il sospetto di un evento ictale e a questo deve seguire la chiamata immediata del 118 questo perché il 118 cioè il servizio dell'emergenza territoriale al quale ovviamente rivolgiamo la nostra stima e la nostra gratitudine quotidianamente garantisce il soccorso in tempi brevissimi del paziente che potrà essere condotto nell'ospedale più vicino ma soprattutto in un ospedale che sia abilitato alla attuazione di terapie tempo dipendenti cosa sono le terapie tempo dipendenti beh si tratta di strategie terapeutiche che ovviamente sono attualmente riservate all'ictus ischemico che devono essere attuate entro un tempo definito dall'esordio dei sintomi in particolare la fibrinolisi o trombolisi endovenosa è una terapia farmacologica che può essere impiegata attuata nei pazienti con ictus ischemici purché ovviamente arrivino nella nella sede giusta entro quattro ore e mezzo dall'esordio dei sintomi viene ovviamente infusa per via endovenosa una sostanza l'attivatore tessutale del plasminogeno in grado di lisare cioè di sciogliere un coagulo ematico responsabile della occlusione di un'arteria cerebrale questa è una strategia terapeutica che si è resa disponibile in italia e d'altra parte in altri paesi dell'unione europea dall'estate del 2003 negli ictus ischemici da occlusione di vasi arteriosi cerebrali di grosso calibro è disponibile inoltre sono disponibili delle procedure endovascolari di disostruzione meccanica in sostanza la trombectomia o la tromboaspirazione meccanica procedure in grado di garantire la disostruzione meccanica di vasi di arterie cerebrali ovviamente queste procedure in particolare l'ultima cioè le procedure endovascolari vengono nella nostra area vasta sud est attuate presso la vicina azienda ospedaliera universitaria senese mentre la trombolisia endovenosa viene attuata in altri tre ospedali della nostra azienda sanitaria la usna sud est cioè l'ospedale san donato di arezzo l'ospedale di santa maria la gruccia in valdarno e l'ospedale della misericordia di grosseto di grosseto bene io inizierei un attimo a parlare anche di fattori di rischio così fra poco magari diamo la parola anche al dottor bolognese cardiologo insomma stimatissimo anche perché abbiamo iniziato la nostra chiacchierata dicendo attenti a quei due no quindi cuore e cervello che sono fortemente collegati proprio nel capire anche perché questi eventi si verificano inizierei appunto con lei cercando di capire quali sono i fattori di rischio immagino che ci siano delle patologie insomma legate anche croniche legate insomma ecco a questi eventi di certo sono noti ormai da tempo alcuni fattori ai quali si associa un aumento del rischio di ictus tra questi alcuni molto noti patologie purtroppo molto diffuse come l'ipertensione arteriosa il diabete la ipercolesterolemia ma d'altra parte il fumo di sigaretta per il quale si rende assolutamente indispensabile ai fini preventivi e curativi la sospensione definitiva l'uso di sostanze stupefacenti riguardo a questo proposito la cocaina che in Italia e negli altri paesi europei rappresenta la seconda sostanza di abuso più largamente impiegata dopo la cannabis e che è in grado purtroppo di ed è comunque responsabile dicevo di eventi ictali di tipo ischemico o emorragico in soggetti appartenenti a fasce di età più giovani rispetto a quelle abituali ma d'altra parte oltre questi fattori voglio ovviamente ricordare alcune cardiopatie tra queste soprattutto la fibrillazione atriale un disturbo del ritmo cardiaco che tra l'altro è responsabile di circa un quinto di tutti gli eventi cerebrovascolari acuti di natura ischemica è proprio questo la fibrillazione atriale diciamo il tema principale di questo evento promosso da Alice Italia e che vede d'altra parte quotidianamente coinvolti in senso collaborativo cardiologi e neurologi non sono pochi i casi di ictus che si ricoverano nella nostra unità operativa ma così come d'altra parte in altri setting assistenziali nei quali abbiamo modo di diagnosticare la fibrillazione atriale per la quale come spiegherà il professor Bolognese collega cardiologo per la quale appunto sono oggi disponibili delle strategie terapeutiche e preventive quanto mai efficaci. Allora diamo la parola al professor Bolognese intervistato in questo caso a distanza insomma anzi ringraziamo il dottore Nolli per essere qua con noi in presenza immagino che insomma non sia semplicissimo per voi medici proprio in questo momento dedicare qualche minuto anche solo ad un'intervista intervistato dicevamo a distanza dal collega Fabio Frabetti Dottore quali sono i fattori di rischio dell'ictus cerebrale? Beh ci sono molti fattori di rischio che possono essere modificati e vanno dall'ipertensione arteriosa al diabete e alle malattie cardiache che possono predisporre all'insorgenza dell'ictus. In particolare la metà dell'ictus su base ischemica è legata ad emboli a partenza dalle cavità cardiache e quindi le problematiche cardiologiche rappresentano senza dubbio uno dei fattori di rischio più importanti. Come si può prevenire? La prevenzione è nell'identificazione di questi fattori di rischio e laddove è possibile modificarli. Una di queste condizioni è rappresentata dalle aritmie cardiache in particolare dalla fibrillazione atriale che è caratterizzata dall'attività in coordinata delle camere atriali del cuore per cui all'interno il cuore ristagna si possono formare dei crumi di sangue, dei trombi che poi possono embolizzare a livello cerebrale. Quindi nel caso specifico della fibrillazione atriale l'identificazione, il trattamento, soprattutto la prevenzione dell'ictus rappresenta un ruolo fondamentale. Quali sono i controlli da fare proprio in ottica prevenzione? Nel caso di soggetti che hanno una cardiopatia e che sono sintomatici soprattutto per le palpitazioni è molto importante andare a ricercare la presenza di fibrillazione atriale e nel caso si dovesse documentare è importante agire su due fronti. Una è una terapia che è mirata a controllare l'aritmia e l'altra a prevenire l'ictus. In questo caso il caposaldo è rappresentato dalla terapia anticoagulante. In questo momento particolare con l'emergenza Covid cosa sta accadendo anche nel poter continuare la prevenzione? Beh chiaramente lo scenario della pandemia ha avuto delle ripercussioni sul trattamento di tutte le cosiddette patologie che oggi vengono chiamate no covid cioè al di fuori del contagio dell'infezione prodotta dal coronavirus. Questo ha prodotto sicuramente una tendenza a ridurre l'attenzione nei confronti di queste patologie non certamente da parte dei medici se non per problemi di sistema o strutturali ma tra loro anche da parte del paziente che ha ridotto l'interazione con i propri specialisti e con l'ospedale nella paura di entrare in un contesto maggior rischio di contagio di coronavirus. Che cos'è la fibrillazione atriale? Che rapporto c'è con l'ictus e perché il rischio di ictus è più alto nei pazienti che appunto hanno questo problema? Come dicevo prima la fibrillazione atriale è un'aritmia che produce una incoordinata attività di alcune camere del cuore per cui all'interno si possono formare dei trombe poi queste imbolizzare e produrre l'ictus. Quindi il riconoscimento del trattamento è fondamentale, la prevenzione dell'ictus nei soggetti con fibrillazione atriale è sostanzialmente basata sull'impiego del trattamento anticorulante cioè farmaci che tendono a fluidificare il sangue e impedire la formazione di questi quadri. Infine ci sono dei sintomi a cui prestare attenzione proprio per la fibrillazione? La fibrillazione atriale può essere completamente sintomatica altrimenti si può manifestare sotto forma di palpitazione, di sensazione di battito alterato più o meno prolungato. Altri sintomi possono essere la difficoltà a respirare o l'oppressione toracica. Quindi la presenza di questi sintomi devono allertare il soggetto soprattutto se affetto da cardiopatia oppure presenta altri fattori di rischio come l'ipertensione arteriosa allertare lo specialista e quindi approfondire la valutazione del soggetto. Bene abbiamo affrontato davvero un po' a tutto tondo ovviamente con i minuti che sono sempre tiranni insomma in televisione ma del resto dobbiamo dare le informazioni più importanti poi ovviamente c'è sempre l'invito alla prevenzione perché è vero che viviamo una pandemia ma ovviamente non c'è soltanto il covid, non c'è soprattutto soltanto il covid, anzi dobbiamo assolutamente tutelare anche tutte le altre patologie soprattutto sotto il profilo della prevenzione. Ecco immagino che Alice si inserisca proprio in questo e insomma il cammino sia un po' questo. Sì sicuramente, beh questa è una iniziativa quella attuale alla quale Alice Arezzo partecipa attivamente e d'altra parte vorrei ricordare che si inserisce appunto in una sequenza di iniziative sempre rivolte alla popolazione dirette appunto a diffondere la conoscenza dell'ictus. Ricordo come appena nel ottobre del 2019 Alice Arezzo insieme alla Alice regionale toscana ha promosso una importante iniziativa di aggiornamento rivolta alla popolazione alla quale ha partecipato anche la Conf Artigianato e l'Inps. Quindi direi che ringrazio nuovamente niente grazie a voi Alice Italia per la promozione di questo evento che tra l'altro dà anche occasione per rendere noto come la collaborazione tra neurologi e cardiologi porti a dei risultati sempre quanto mai soddisfacenti. Senta, ho un medico diciamo a disposizione, com'è stato questo anno? Questo esula ovviamente dal nostro contenuto, però giornalisticamente è una... Ma sicuramente questo, l'evenienza pandemica purtroppo è stato motivo di gravi difficoltà per la sanità retina sicuramente così come per le altre aziende sanitarie. Una evenienza che tra l'altro ci ha costretti ad una riorganizzazione della nostra attività. La neurologia per esempio si è resa disponibile a fornire diciamo la collaborazione di colleghi neurologi che affiancano pneumologi ed infettivologi presso l'area Covid. Sicuramente ci sono state e continuano purtroppo ad esserci difficoltà di ordine organizzativo, ma ci siamo impegnati a garantire comunque in tutto questo periodo l'assistenza ai pazienti con ictus così come ai pazienti affetti da altre patologie neurologiche. Assolutamente, la nostra insomma è un'eccellenza, sempre bene ricordarlo, però ecco i primi medici forse siamo noi stessi nel comunque curare come dicevamo prima la prevenzione e nell'ascoltare il nostro corpo in tutto quello che ci comunica. Grazie al dottor Lenore, al professore Bolognese, grazie anche da parte nostra ad Alice per aver portato insomma questo contenuto informativo così importante. Grazie a tutti.